Salve a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video del canale, il video di oggi è un video che vi avevamo già preannunciato nella live della banlist Mi sta facendo compagnia in questo momento Matteo Ciao a tutti ragazzi L'avevamo già registrato anche con Master, F per Master che purtroppo non comparirà in questa clip L'abbiamo dovuto rifare perché mancavano alcuni deck un po' troppo importanti e volevo parlare anche di lucro Ciao Master Praticamente lo scopo del video di oggi qual è? Semplicemente parlare di alcuni deck che secondo noi sono interessanti, buoni e relativamente a basso rischio banlist Quindi cosa significa? Che non sono per forza i tier 0 di formato ma sono mazzi che perlomeno fino alla prossima ban dovrebbero arrivare giocabili Poi per quella dopo ancora non vi possiamo assicurare niente però Se avessimo la sfera di cristallo non saremmo qua Esatto, però fino alla prossima dovrebbero sopravvivere e l'importante è quello Sono un totale di 8 se vogliamo 9 mazzi E niente direi che possiamo cominciare un po' a parlare di questi fantomatici deck Quindi comincia pure tu Matteo Va bene, allora il primo di cui vi parlo io è forse quello più performante di quelli che tratterò perlomeno io Ovvero BirdUp, avete visto anche la mia profile sul canale Per quanto riguarda il mazzo ha veramente veramente un grandissimo potenziale Ha delle giocate veramente forti, dalla banned è stato praticamente intoccato e a meno che non diventi uno dei due barra tre mazzi più rilevanti del momento Non mi aspetto che sarà tra i prossimi ad essere toccato appunto a luglio quando si prospetta la nuova Banned Il mazzo può andare bene tranquillamente sia primo che secondo Appunto secondo avendo Zeus e andando primo avete visto comunque nel video Che può tranquillamente mettere su lock con negazioni multiple senza troppi fronzoli E quindi è il mazzo sicuramente più performante penso dell'intera lista insieme a un altro Che comunque sia vedremo dopo di cui vi parlerà Umba L'unica nota negativa se la si vuol dire del mazzo è che comunque sia per giocarlo al pieno del suo potenziale Zeus purtroppo va comprato È la carta più costosa del mazzo, capisco che costi parecchio Però il mazzo la può giocare e penso sia forse una delle tre carte più rilevanti di tutto il momento Adesso insieme a Dragoon, visto che è scomparsa comunque sia a WFD Tu cosa dici? Sì, assolutamente Poi prima di spostarci al prossimo deck direi che è il caso di rispondere a qualche domanda Che io mi immagino già sotto tutte le volte che parliamo di un deck Io già le percepisco le domande nei miei commenti Pensa che poteri che si sviluppano quando stai su YouTube Allora, la prima domanda che mi immagino qua è sicuramente quella Ma voi state consigliando Beard Up Ma se poi dovessero effettivamente toccare qualche cosa a luglio Allora, come vi ho detto anche nell'intro Anche se dovesse succedere letteralmente all'apocalisse E venisse toccato qualche cosa di Beard Up Fino a quando non ci sono carte bannate Il mazzo se la può assolutamente cavare Poi ovviamente se parliamo di carte molto importanti Come discutevamo anche la trota Tipo Fractal A1 Potrebbe fare molto male Diciamo che per il mazzo escluso il ban Che lo vedo improbabile O il limitazione di Fractal A1 Se dovessero andare a colpire anche A2 Il grosso del reparto comunque di 3 Brigade Non ci sarebbero molti problemi per il mazzo Perché comunque sia anche con Fractal A2 Io l'ho provato Visto che come anche dalla profile avete visto Uno l'abbiamo dovuto proxare con la magia dell'editing Il mazzo ne potrebbe risentire Ma Fractal A2 lo sapete Che le semi limited sono sostanzialmente quegli hit Come per dire alla prossima Te lo do un po' più serio Lo schiaffone Ecco Però comunque sia Anche Zeus ve ne serve solo uno E non penso che sarà una carta Che andranno a bannare A meno che il meta non diventi semplicemente Zeus spam Come è stato per Calamity spam Che poi abbiamo visto anche quante bannare ha resistito Calamity Prima di andare completamente a zero Il mazzo sotto questo punto di vista Secondo me non si beccherà un banhammer pesante Potrebbe beccarsi una toccatina Però comunque sia come molti mazzi Che inizialmente beccano la toccatina Rimarrà giocabilissimo anche post banned Chi chiede il costo del mazzo Ecco così So già che tanto se no sarà la seconda domanda Dei mazzi che vi dirò io Sarà sicuramente il mazzo più costoso Ma solo anche perché Zeus ragazzi Sta a 60-65 euro da solo Comunque sia un 150 euro Penso che minimo li dovete mettere Il reparto Lirulisk non costa niente Però il reparto Tribrigade Come anche Umba vi ha detto da qualche altro video Doveva essere un reparto che avreste già dovuto prendere Adesso si alzeranno sicuramente L'ultima domanda che mi aspetto riguardo a Beardup Perché ovviamente tutti siete curiosi del nuovo meta Beardup sulla carta è molto forte Bisognerà vedere quale sarà l'assortimento di Entrap Che si andrà poi a stabilire Perché prima comunque sia era Diciamo con dei matchup molto favoribili Perché la maggior parte dell'Entrap Non gli facevano niente O quasi nulla Adesso se cominciano un attimino a tornare di Biru Cominciano a tornare all'impermanence Lancea comunque fa male al mazzo Sì se si cambia proprio set di Entrap Bisognerà vedere come se la caverà In ogni caso non dovesse essere meta Avrete comunque un engine super flessibile Da mettere in tanti deck Quindi non è la fine del mondo Allora direi che è arrivato il mio momento di brillare Il primo archetype di cui parlo In realtà è un doppio archetype Anche se sono due separati Però va bene lo stesso Code Talker e Ignister In OCG questi mazzi Se la sono cavata molto bene Code Talker ha fatto dei buonissimi risultati Verso fine 2020 E Ignister invece in questi mesi del 2021 Fa veramente dei risultati ottimi In OCG tuttora Perché ha ricevuto una voce di supporto Che arriverà poi eventualmente anche da noi E che andrà a potenziare tantissimo il mazzo Il deck io lo consiglio a quelli che sono gli amanti Ovviamente del combo spam Perché entrambi i mazzi quello vogliono fare Sono molto solidi È difficile diciamo interrompere le loro giocate Se non hai proprio l'entrap precisa O non hai proprio la carta Che li può andare a interrompere nel momento migliore Entrambi i mazzi hanno un piccolo problema tecnico Ovvero che manca una carta importante per 6 verso Che è il The Good Tool Kerit Soul Che non si sa bene quando arriverà da noi Né se arriverà da noi Se tutto va bene potrebbe essere inserito dentro Fantasmi del passato Però ancora non c'è la lista carte Quindi insomma prendete tutto quello che vi dico Con le pinze Dovesse essere inserito lì dentro Code Tool Kerit potrebbe già fare delle cose molto carine Per quanto riguarda acquistare le carte Di entrambi gli archetype Access Code dovrebbe Se tutto va bene essere Vicino a una ristampa quest'estate Se dovessero decidere di includerlo dentro i Megateen Quindi non vi conviene acquistarlo ora E anche le carte Innister hanno saltato la scorsa wave di ristampe E quindi dovrebbero teoricamente anche loro essere inserite assieme all'access code Nei prossimi Megateen E beh se non ricordo male venivano fuori anche dallo stesso set Magari potreste pensare di prendere qualche cartina di contorno 6 verso in questi mesi Per portarvi già avanti Ma questa è soltanto un'idea mia Mi raccomando testate i mazzi Prima di decidere effettivamente dove andare ad investire Però è sicuramente Anzi sono sicuramente due archetype abbastanza promettenti Ok è di nuovo il mio turno Altro archetipo Barra questa volta engine Che io mi sento di consigliare Comunque sia perché lo gioco veramente da tantissimo È Invoked Purtroppo ragazzi Invoked è uno degli engine Che rischia eventualmente una toccatina È vero che molti dicono Se doveva essere toccato Dovevano averlo già toccato in questo momento Però è anche vero che nell'ultimo periodo Era stato fondamentalmente oscurato Da quelle che erano le giocate canoniche Appunto di Drytron e di Virtual World Sicuramente adesso tornerà molto in voga Soprattutto col fatto che Ipotizziamo un ritorno anche di Dragoon Spam E diciamo che i dragooni insieme a Invoked Ci vanno più o meno a nozze Quindi state attenti Se decidete di comprarlo Magari il consiglio è Prendete solo due invocation Non prendetene tre Così risparmiate un po' di soldini È chiaro che se invece volete giocare la versione pura Che forse è anche una delle migliori Tre invocation ci vogliono Per contro se volete giocare la versione pura È anche la versione più budget Proprio perché è tolto il costo delle invocation Che le super credo stiano sulla ventina d'euro Le altre carte sono state ristampate Stanno a spiccioli E la buona cosa di Invoked puro È che si può permettere un quantitativo Di entrape, di odio, di cattivi sentimenti Mostruoso Per quanto riguarda invece lo splash con altri archetype Dovreste andare ad investire un po' più di soldi Soprattutto se volete mischiarli con Dragoon, Dragma Altrimenti un'altra versione buona Rimane quella con gli Shadow Che tolto scisma Comunque non ha un costo elevatissimo Proprio perché sono tutte carte da strutture L'unico rischio è che appunto Invoked Potrebbe, se dovesse essere abusato Beccarci la famosissima Meltdown a 1 O ancora peggio la Leicester a 1 Alla prossima Burnet Però, come ha detto Umba, testate E eventualmente se vi convince E trovate comunque sia le carte a poco Potrebbe essere una validissima opzione Secondo me Mi permetto di aprirti una parentesina Per chiudere Adesso siamo proprio nelle prime battute Del nuovo formato C'è stato soltanto un torneo grosso L'LCS è in top Top 16 i ragazzi C'erano tipo un quarto Erano comunque con base Invoked Ha comunque dimostrato Che se la può cavare bene Mischiato anche con vari archetype Esatto, sì Bisognerà vedere se poi questa tendenza È continua anche per i prossimi mesi Oppure se è soltanto In questo, diciamo, periodo di transizione O queste due o tre settimane Poi piano piano la gente si sposta Su Dragon Link Su Dino Che, spoiler, fra poco ne parleremo E su altri deck Diciamo diversi dai soliti E rubo la parte al Master Non me ne voglia Aveva praticamente fatto Una tesina di laurea su Dino Io invece sarò un pelino Più breve e circonciso Dino, ragazzi, è un altro archetype Come Invoked Che è praticamente sempre lì lì Non sai mai se lo toccano Se non lo toccano Quando è la sua ora Quando è il suo ultimo momento Noi tutti però Ci siamo messi un attimo Attorno al tavolo Ci siamo messi un po' a ragionare E siamo arrivati alla conclusione Che, considerando che a giugno Deve uscire Scrap Raptor Che è una carta Che purtroppo O per fortuna Konami deve vendere Che sarà sicuramente Max Rarity È molto difficile Che esce la carta Dieci giorni dopo Esce la banlist E tocca qualche cosa Nel mazzo Che dovrebbe utilizzare più di tutti Quindi la vediamo un po' Come una cosa Veramente, veramente Molto difficile Detto questo Primo o poi sicuramente Dino Unite Se lo deve prendere Perché è inevitabile Ma penso che almeno Alla prossima ban Arriverà più o meno Il leso e intoccato Sapete tutti Che il mazzo è forte Abbiamo già visto nel primo tornino Che Dino è arrivato in fondo Il deck è solidissimo Può giocare tante carte fastidiose Si può permettere Mina Mistusauro che lo protegge dall'entrap L'unico problema che ha Se proprio ne vogliamo trovare uno È il costo Perché purtroppo è un mazzo Che comunque Continua a costare Veramente tanto Con i coccodrilli E più avanti Se mettiamo già in conto Lo Scrap Raptor Eh, avevamo visto infatti Che il coccodrilli Era arrivato sui 50 Bar da 60 euro A copia Quindi mettete conto Almeno un centinaio di euro Solo per i due coccodrilli E più vi manca comunque Tutto il resto del mazzo Dove ancora anche I Lagia e i Dolca Sono carte un po' vecchiotte Quindi su una decina d'euro L'una più o meno Vanno a stare Quindi considerate comunque sia Che il mazzo è un mazzo Rotondissimo Però il costo È abbastanza considerevole Perché poi c'è tutto Il resto del contorno Oltre i due coccodrilli Diciamo che c'è un po' Una componente di rischio Come con il discorso in Vuket Però secondo me Tra i due Quello che si ha rischiato Di più è Dino Non so secondo te Ma Io non so così anch'io Poi dipenderà sempre questo Da che risvolto Andrà a prendere il meta E questa appunto È la premessa generale Però secondo me Dino in proporzione Rischia più di invoked Anche a detta del master Comunque ecco quindi Per quanto riguarda Il prossimo mazzo Che consiglio io ragazzi È forse il mazzo Più budget Tra quelli che Vi consiglierò Ovvero Mina Mina fino ad ora Non è stata praticamente Giocabile Negli ultimi formati Proprio perché La presenza Comunque sia di Virtual World Che grazie a Ciuce ti impediva Sostanzialmente Di calarci Mina E allo stesso tempo Di Drytron Con 7 miliardi e mezzo Di negazioni Sul tavolo Mina era praticamente Scomparsa e questo è E questo è anche uno Di motivi per il quale Comunque Mina rimane Omnipresente a 3 E non viene mai Toccata nelle Banned Ricordate che Finché esisteranno Comunque dei super Combo spam Che vi buttano Sul terreno Lock Pazzeschi O super negazioni Mina non si Beccherà Il martello Sulla fronte Ecco che qualora Dovessero essere colpiti Anche tutti i combo Pesi Allora anche Mina Potrebbe prendersi La toccata Secondo me Mina Potrà tornare Ad essere giocata Perché se il mazzo Va primo Spegne anche Carte fortissime Come possono essere Lock di qualsiasi tipo O negazioni di Qualchiasi tipo Date da mostro E il mazzo Generalmente il game Uno se lo porta a casa Oside è vero Che adesso esiste Un odio Cattivi sentimenti Per tutti i mazzi Che settano il mondo Però comunque sia Il mazzo Ha un costo Veramente irrisorio Perché tolte Le 3 extravagance Che a dire mio Sono ancora meglio Comunque sia Della disparity Perché in Mina Spesso e volentieri Si sente molto di più Il bisogno di avere Quel più uno secco In mano ragazzi Piuttosto che Avere la carta giusta Al momento giusto Perché giocate quasi Tutto a 3x Quindi generalmente La carta la vedete Chiaro se l'avete Le disparity Potete montarlo Tranquillamente Anche con quella Non c'è nessun problema Il costo è veramente basso E il mazzo Può performare bene Non si beccherà Assolutamente Nessun tipo di Di hit Secondo me Attualmente Un'altra cosa Che tiene in checkmina È anche il discorso Dragon Link Perché Dragon Link Se gioca la variante Con le Dragon Maid Ha accesso La trappola Dragon Maid E ha modo di autare Mina abbastanza spesso Quindi anche per questa ragione qua Se dovesse Sognare a vedere Ma è molto probabile Che nei prossimi mesi Il meta sarà Praticamente monopolizzato Da Dragon Link È quasi impossibile Che Mina venga toccata Perché il mazzo Più giocato Ha tranquillamente L'out Per la carta Già di main deck Quindi ragazzi Tre proibizioni di main E siamo a posto Il prossimo deck Di cui vorrei Un attimino parlare È PK Tantissimi qui sul canale Adorate questo mazzo In OCG È un deck Che è onnipresente Praticamente Da quando sono usciti I nuovi supporti Qua da noi Diciamo che Anche i posti supporti È stato praticamente Oscurato Da tutto il resto Ma resta comunque Sia Secondo me È un mazzo Molto solido Ha tante giocate Da proporre È un deck Molto carino Si può mischiare Con tantissime cose diverse E soprattutto Adesso che ha Il bardish libero L'accesso Potenzialmente Ancora Al discorso Delle rank up Anche se ovviamente Non possiamo più fare Molte combo schifose Come prima della Bannet Però comunque Molte delle combo Simpatiche sono rimaste lì E se cambiano parecchio L'entrap attualmente In circolazione Potrebbe avere la vita Abbastanza facile Nei prossimi mesi Quindi Non è secondo me Un deck su cui Dormire troppo Perché può sorprendere E allo stesso tempo Secondo me È un mazzo Che è proprio Sicurissimo Dall'eventuale Colpi da parte Di Bannet Cioè ragazzi Non si Beckerà Nessun hit Di nessun tipo Secondo me Così Gli hanno proprio Acceso il semaforo verde Quindi è veramente Forse quello più safe Che abbiamo Sulla lista O quasi quello più safe Della lista Insomma Bene ragazzi Ultimo dei mazzi Che vi porto io O che perlomeno Vi consiglio È Prankids Il mazzo È veramente Veramente Buono Si attesta Secondo me Perlomeno Nella faccia Dei T2 Eventualmente Al massimo Appena appena sotto Il mazzo È sempre stato Fondamentalmente Intoccato È un mazzo Contro i quali Generalmente Quando l'oppo Si trova Viene praticamente Ubriacato Da quelle che sono Le mosse di Prankids Io tutte le volte Che ho giocato Contro Prankids Praticamente Tiravo le entra A caso Perché non sapevo Cosa stoppare Qualsiasi cosa Colpivo Comunque sia Lui andava avanti Offre delle buone Interruzioni Anche perché Comunque sia Avere un Rai Geki Con i piedi Da tirare Durante il turno Dell'oppo Fa sempre male Il mazzo Ha un unico difetto Il costo Perché comunque sia La terreno Non avendo mai Ricevuto una ristampa Sta parecchio Mi sa sopra i 20 euro A copia Tu che dici Umba E molto probabilmente Non sarà neanche mai Ristampata Quindi Però comunque sia È un mazzo Che assolutamente Non verrà toccato E può permetterci Dele giocate Veramente forti Quindi Provatelo Testatelo Secondo me È un buon mazzo Evandro E non dimenticate Che ha una One car combo Quasi come ABC Esatto Esatto Quindi non si butta Via niente Ultimo deck Di cui parliamo oggi È Adamantia Ad Amancipator Il removibilatore I sassi Come lo volete chiamare Il mazzo È molto carino Si poteva fare quasi Un discorso unico Anche con Prenkitz Volendo C'è anche la versione Con Prenkitz L'abbiamo portato Anche qua sul canale Deck Se la cava molto bene Ancora solido Non è una battuta Non è rock solid Per quanto comunque riguarda Sia Adamantia Che Prenkitz Che Phantom Knights C'è da aprire Un discorso A parte Secondo me Prima di chiudere Perché sono Tutti e tre I mazzi Che sono Nella galassia Dei rogue O dei mazzettini Comunque sia Di tier bassetto Ok Forse sono d'accordo Con te Quello che ne ha Un pelino di più E Prenkitz Per il semplice fatto Che c'ha La sua one car combo Ha molti più tool Che sono più facili Da buttare sul tavolo Può anche abusare di mina Veramente un bel mazzettino Diciamo che Prenkitz Ha anche un po' più Recovery Rispetto agli altri due mazzi Quindi è leggermente Sopra agli altri due Bisognerà vedere Cosa succederà Più avanti Soprattutto che Entra Si giocheranno Perché a seconda Dell'entra Poi cambierà anche Quello che possono Effettivamente Combinare Questi deck Adamance e Peter Ha anche il gran vantaggio Comunque di essere Tranquillamente Accrocchiabile Con tutto quello Che uscirà Da qui Ai prossimi 247 anni Di tipo Roccia Terra O simili E in ogni caso Non è secondo me Un cattivo investimento C'è la research Che costa davvero tanto Non è stata ristampata In maximum gold Non si sa Se mai avrà una ristampa E un po' Nella stessa situazione Della terreno dei Prenkitz Quindi Potreste Plusare tantissimo Se la prendete Ve la tenete Aspettate Che il mazzo Diventi super rilevante Un domani Oppure Semplicemente Ve la ristampano Da giorno alla notte E vi siete fatti Un super meno Di 30 40 60 euro Quindi Dipende un po' Come vanno le cose Ecco Sì diciamo che Sia Prenkitz Che Adamanti Hanno appunto Questa clausolina Che se la carta Non verrà ristampata Prenderla adesso Potrebbe essere un plus Se la carta Se la carta Dovesse essere ristampata Sarebbe un meno Clamoroso Quindi come sempre Testate prima ragazzi Almeno prima di Spendere i soldi Realmente Ci sono le piattaforme Per farlo Conviene sempre Prima di chiudere Ci tengo a ripeterlo Per l'ennesima volta Perché Sono sicurissimo Che tanti Non arriveranno Neanche a fine video E non avranno Ascoltato neanche l'intro E quindi scriveranno Perché abbiamo nominato Solo questi mazzi Abbiamo parlato di questi deck Nonostante la maggior parte Di loro probabilmente Non saranno Super meta competitive Almeno Non super meta da soli Per il semplice fatto Che sono comunque Sia degli acquisti Relativamente safe Da qui alla prossima Banned Sono tutti deck Tranquillamente giocabili Da rogo in su E secondo noi Sono dei mazzettini Che possono essere interessanti Tutto qua Poi se volete Di video più specifici Con magari Che ne so Delle top O una tier list Che fa cringiare In una maniera incredibile Ma ci possiamo anche pensare O magari Qualche consiglio Per gli acquisti Della serie scommesse Mattissime Fatecelo sempre Qua sotto nei commenti E magari Vedremo di far arrivare Un video del genere Insomma O se avete dei suggerimenti Dai faremo Il Yugi Totocalcio La schedina Dai Comunque direi Che possiamo Anche concludere qua Ringrazio Matteo È sempre un piacere Io vi saluto E vi rimando I prossimi video del canale Ciao Ciao